E a proposito di sindacati, la CGL vuole capire a partire da Udine se lo stress da lavoro negli uffici postali possa considerarsi una patologia o causa di altre malattie. Da qui un'indagine a livello nazionale che parte appunto dal capoluogo friulano. Lei si sente stressata come lavoratrice? Diciamo che ogni tanto hai questi periodi in cui appunto perché pensi dovevo raggiungere questo però magari non so come fare, non so come arrivarci, crea dei problemi. Poi questo è anche molto soggettivo perché non tutti siamo uguali. Il patronato Inca e la SLC della CGL intendono monitorare l'andamento delle patologie professionali, in particolare di quelle da stress, per i consulenti finanziari di poste italiane. La ricerca è la prima nel suo genere intrapresa nell'ambito del gruppo. Cerchiamo di far emergere, cerchiamo di creare una sorta di banca dati da cui il patronato potrà poi far emergere le patologie eventuali che si presentassero e anche partire con questa base per, attraverso il rapporto con l'Ina e con l'Istituto Nazionale per la Sicurezza e per gli infortuni sul lavoro, per verificare se ci sono proprio delle malattie professionali. Ho ricevuto delle segnalazioni e ripeto, c'è chi più. Ecco, quali disturbi ad esempio lamentano? Sicuramente l'ansia è una di queste, alcune soffrono magari anche di depressione, tutte legate soprattutto a questioni di nervoso, dormono poco, eccetera. In alcuni casi ci sono anche manifestazioni a livello fisico, voglio dire, dopo magari un po' di ansia c'è chi non dorme, c'è chi magari ha alcuni piccoli disturbi.